di fritto quando vuoi partiamo dalla bistecca di agnello panata il tuorlo d'uovo pastellato, la melanzana panata e fritta e lo zucchino poi andiamo con la bistecca di vitello, l'asparago con il prosciutto panato abbiamo le lumache pastellate le granelle e la cervella panati e fritti in mezzo abbiamo il tacchino e la trota filetto di trota poi continuiamo con la tempura verdura in tempura il fiore di zucchino la salvia e il carciofo passiamo al piatto dove c'è lo zampino di maiale panato e fritto il prosciutto panato il filone abbiamo il peperone arrostito e il cavolo pastellato e fritto ancora la cipolla la cipolla fritta e poi passiamo alla parte dolce gli amaretti l'ananas il pavesino il semolino la mela e la pera secca ammollata e tutto pastellato o panato e fritto nonché le paste dolci di caffè o di nocciola chiudiamo con il fresco di frutta tagliata affettata e il gelato e la cialda di marco grazie a tutti grazie a tutti